Ancora iniziative volte alla solidarietà a Licata. Questa volta a scendere in campo, come spesso accade, è il Rotary di Licata. Il prestigioso e storico club organizza stasera alle 19 una serata di beneficenza, sostenuta dalla sensibilità del presidente del gruppo a favore della Rotary Foundation, al fine di promuovere e soprattutto sostenere il progetto Polio Plus, la campagna per sradicare la poliomelite nel mondo. Location per scelte del teatro Redi Licata, fondamentale la scelta del luogo, dal momento che vi sarà anche una compagnia teatrale ad esibirsi per allietare la serata. Si tratta dell'associazione Tessere di Coccio di Palma di Montechiaro, che calcherà il palcoscenico del teatro licatese, portando in scena gratuitamente la commedia brillante in vernacolo intitolata Adota. Un mix perfetto tra arte e attività di beneficenza, elementi che convergono armonicamente per raggiungere un unico obiettivo, ossia promuovere e incentivare anche nel territorio della cittadina marinara di Licata la campagna per sradicare la poliomelite nel mondo. Si tratta di una manifestazione che in realtà si incastona perfettamente con le molteplici attività promosse dal Rotary Club locale.